Lei, che idea ha della povertà? Eh, mi spiace ripeterlo, però sono invidiosissimo dei poveri. Perché? Perché sono una razza rara. Come una razza rara? Una razza rara. Eh, nel senso che raramente diventeranno ricchi. Eh, raramente, mi dite, che c'entra? Qualcuno dice... Ma c'è il modo di parlare, ma che cazzo vuol dire? Diciamo la verità, lei l'odore di povertà le fa schifo. Sì, 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 sì. Non li sopporto, non li sopporto. Come fa dire non sopporta i poveri? Non si può dire delle cose simili. Non li sopporto, anche perché... Lui è nato col culo al caldo, fortunato, sta qui a sbeffeggiare le persone che non hanno niente, ma che roba è? Eh, sì, ma perché anche chi non ha niente, alla fine sta lì solo a criticare, criticare, ma cosa fa?